Qui tra qualche ora è allucinante quanta gente so C'è talmente tanta gente che non si riesce neanche a camminare e sono solo le dieci, dieci e mezza Bisogna aspettare per il divertimento ancora Questo qua che vediamo sulla nostra sinistra è il locale pieno di svedesi, finlandesi, norvegesi, danesi, ovvero solo scandinave Adesso è un po' vuoto ma fra poco c'è solo zoccolone bionde Colpite anche loro da questa grave malattia che c'è qua, la mammellite Purtroppo se non hanno la quinta in su non vengono accettate in questo paese Purtroppo devo andare nella mia gorsa No stasera Giulio non va dalla sua gorsa Perché potrebbe essere minato Grazie